Grazie a tutti. Vado? Di energia, sì. Spadola come quella... Era una. Una spadola. Ok. Mi schierà più con energia, cioè cercare di... E se non è... Un po' meno... Fai ad asciugare. E poi più cabello. Va meglio o è la... No, il pelo del... Il pelo ma l'è. Va meglio l'ha? Sì. Cioè se tu fai così, la prendi e la legge. Mentre così la stendi. Non va a stare nella stessa voce. Stendilo. Lo prendi e lo... E me che cosa? Ti chiedi sì. Mi sembra sempre il pelo. Questa va bene. Questa sei arrivata, no? Guarda. Giustamente dice, o lo fai e poi lo fai preciso, cioè forse uno ha, per esempio, lo rifai uguale qua. Cioè, tutti i quadrati e poi... O se no, ora ti fai tutte queste due uguali. E poi in base a dove cadono... La fatta è finita e poi siamo tutti ad andare a Canaria, perché... Beh, è questa. Ehm... Però... No, vabbè, tutti... A parte i pigmenti sono materiali abbastanza... La fatta è finita, è finita, è finita, è finita, è finita, è finita...